un'altra pianta carnivora di fronte al bunker dai ma serio ok si ok torna tutto come due piante carnivore? due piante carnivore sono nate ho preso un frutto in compenso grazie ti ricordo che dobbiamo fare il rituale del teschio si dobbiamo fare l'ultimo rituale del teschio giusto ah quello si quello finale quello finale si si no si si ok adesso c'ho la kt4 che l'hai detto in slow motion era inquietante no perché ci stavo pensando ah ok qua c'è il tipo che ha preso la munizione non si accorge me è molto male ok lol è uscita la scritta ok ho fatto tutte le sfide comunque è uscita la sfida tipo quella lì degli headshot sopra il munizione al massimo quindi ce lo sia l'embrea ho capito tipo sovrapposto si esatto beh dai c'erano due bombe pure aspetta prendiamo pure la seconda no 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 non la prendiamo no ma vada che mi sa che inizia non la prendiamo se non inizia se inizia la prendiamo c'ho due giganti due e forse sono gli ultimi davide legolino e corrono pure alla grande qualcosa di peggio no? eh dobbiamo ammazzare eh ci vede il problema è che inizia il round eh vabbè lo facciamo no aspetta ma facciamo il rituale con questi fuori ce lo fa uno riesci? vuoi farlo tu o lo faccio io? no 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 ah ah si 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 potrei fare io invece potrei fare io allora ma lo scudo ma tanto a parte che non serve perchè i colpi di trapassi no no eh si in questo caso non serve perchè eludono lo scudo e custodi però lo scudo non ci sono facenti ne ammazzo uno che due mi preoccupa ok andiamo giù che uno è morto ammazzato gli inferi le tue sfide a che stanno? eh beh non è il momento io le mie le ho finite tac tutte e tre belle pronte passi da giugante sei già sotto? si si iniziato il rituale? si ok 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 ricordiamoci al prossimo round dei ragni innanzitutto appena prendi lo scudo scansiona il foglio su... il teschio comunque eh si ma facciamo appena prendi il teschio scansiona il foglio... no troppe cose in questa mappa c'è uno si confonde si no porca troia incatenata sconsacrata veramente assurdo ragazzi dicevo appena prendi il teschio scansiona quel cazzo di foglio lì che la pergamena quello che lei c'è su living cartes così possiamo anche prendere i pezzi per potenziare la wonder weapon cioè puoi piantare la piant... la piantina la il seme colorato arcobalenico cazzo di e dopo possiamo anche durante il round dei ragni visto che dobbiamo fare le ragni la modalità ragno scansionare il ragno appunto intanto sto fraternizzando con questo bestiolino divertente ti saluta grazie ricambia ricambio di cuore ricambia di cuore non sembra fregarsene vai ora lo prendiamo con calma eh con calma... piano chi ha guardato le stream sa perché perché sarò... guarda non voglio dire cosa hai dell'acqua viola? ok l'ho presa e non ho l'acqua viola questi nemici no perchè quelle due vanno fatte con l'acqua viola quando vuoi prendi pure il testo eh sì sì vado andasse vai su living... le venga living cartes o solito se vuoi prendi anche l'acqua viola ma principalmente scansionare anche un seme ho piantato al laboratorio B se siamo in riva al mare ok sentato un seme sotto laboratorio B ok allora andiamo a scansionare e poi prendo anche l'acqua viola due in uno olè così attenzione vostro orrore e faccio anche una... attenzione vostro orrore allora ci sarebbe anche da distruggere il ragnatele col KT4 quindi lo faccio adesso ok perfetto della Gabogam distruggere il ragnatele per di quasi ne farei una di Gabogam eh non è che sprizziamo punti da tutti i pori eh no ma infatti non... non è il caso io ti consiglierei di aspettare allora acqua viola e guarda con 20 punti potrei già aprire per prendere il pezzo ho vogliato tasto vaporizza ok potrei prendere già il pezzo per lo scudo se faccio altri 20 punti riparo due barriere mi tiro giù si mi tiro giù e mi stendo giù mi stendo giù al quick vediamo no no ho già fottuto io beh riparo due barriere si si io intanto sto facendo qua le ricompense finchè non mi da... eccolo il fucile a pompa ale tac buono il breccio vado a costruirlo allora si al B al B vai il viola dov'è che dove è innaffiare col viola? eh trappola dell'aereo e la la pianta di fronte al fucile a pompa al muro sempre in quella zona poi le due vanno innaffiare di viola c'hai il gormito e quindi non è il caso di prendere non so esattamente è dietro di te proprio dietro dietro qua si sta salendo le scale ora che carino quindi stacci attento allora vado innaffiare di viola no 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 non riesco a costruirlo col gormitivo no no vado in qui sto qua mi chiuso lo costruisco io allora di viola la trappola dell'aereo ok viola giusto si è diventata una sfida personale si 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 poi dopo che devo fare? ah nulla viola è quella due due sono è quella dentro l'aereo ah ah perfetto ok ah ah mamma il prossimo round già sbocciano queste due sboccio mamma che come si sboccia ok eeeh questa è fatta lo scudo lo scudo andiamo a costruire vai fatto ma oh che bravo bravo ragazzo ah aiuto sono rosso lo stai attento mi ha tirato un colpo appena vediamo le mie sfide allora uccidi 20 zombie sott'acqua 8 ragni con le spore me ne manca uno così così potrei andare a tana dei ragni e farlo eh ma in realtà di solito uno zombie c'è portato eh ma un gormita non penso che diventa un ragno c'è una brava differenza io direi di ammazzarle e proseguire ok vada eeeh aspetta se no potrei intanto prendi il teschio vai il teschio o non l'hai presa ho preso il teschio è da mo' che l'ho preso potremmo fare già quello della pianta potremmo prendere eh non c'è il cerebro e non c'è manco i punti per prendere la qualcobalena c'è di che non ho appena piazzato uno non sapevo no vabbè ma dai tranquillo poi non c'è neanche i punti per la qualcobalena ce l'avresti tu però vabbè dai a me basterebbero a cazzo potevo farlo io no ormai dai vabbè è andato appena ci sbocca è passato all'aere ah grande ti devo distruggere male non hai capito ti devo proprio disintegrare in due se piante togliamone dai coglioni poi riesce un granaggino piccolino piccolino sale le piante coeli scarse togliamone dalle palle che dopo se vogliamo piantare altra roba ci sono i slot ci sono queste in mezzo sa esacli tac che dici di sbocciare tutte le piante sboccio duro di fare sbocciare le piante dici magari non tutte tutte ma qualcuno soldi solo per te bravo oh eh c'è una pianta da frutto eh 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 ok c'è anche una pianta quella lì alleata che ti tiene l'ultimo senti io provo il frutto vediamo che mi dà dai che la tiro lì mulki vabbè il peggio di peggio vabbè no no dai in realtà è meglio del daikiri ah si vabbè ma il daikiri è proprio la mezza è il peggiori che ti poteva dare eh non credo si tecnicamente si ma vabbè non credo si possa sto pensando alle sfide io dovrei fare anche quella si perché se non fai le sfide non possiamo vendere l'altro pezzo prendere la massa a moon e poi quello lì che si fa con lo scudo elettrico allora quella dei ragni ok zombie sott'acqua poi quell'altra qual'era? inizioni mi sono uscito addosso quell'altra qual'era? aspetta zombie sott'acqua no aspetta scusa ma la prima l'hai fatta ah si 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 zombie sott'acqua ok solo zombie sott'acqua quindi manca si giusto una l'ho fatta c'ho un gormito io ho un seme invece vado a prendere l'arcobaleno aspetta che c'è gormito infuriato e c'ho un bel po' di zombie c'è il teschio in caso? si si ah vado a prendere l'arcobaleno vai un baleno tanto ho anche il teschio carico quindi posso fare la roba tutto zio bordello allora i ragni sono stati ma io non trovo ancora semi ma perché? stiamo baggiamo i semi perché non riesco a trovare i semi aspetta tu quanti zombie hai? io sto correndo non ne ho appresso ok questi qua li ho ucciso sott'acqua quindi ce li hai praticamente tutti tu mi sa o c'ho ok un'arcobaleno in un baleno andiamo di prenderla al primo tentativo perché si devono risparmiare punti tac presa oh mio dio che cazzo fa? ero qua che uccide un zombie sott'acqua lol non ci stavo pensando che poi arrivavi qui mi sono visto un sal un salvaggio cazzo mi sa che me ne manca proprio no mancherà 3 o 4 si ma qui ancora continuano a sponare non si capisce ripeto occhio non ammazzarli perché vorrei piantare la piantina piantare la piantina piantare la piantina quindi come obiettivo perché pensiamo anche agli obiettivi che effettivamente questo è un live obiettivi anche se non può sembrare allora c'è da fare quello del ragno si manca pochissimo mancano due zombie sott'acqua e un ragno con le spore basta poi è finito tutti no vabbè io dicevo c'è da fare quello del ragno ho inteso che dobbiamo andare alla boss fight del ragno con il ragno bisogna fare il ragno distruggere tutti i ragnatele in modo possibile poi rifare i 25 50 elshot senti dico potrei fare già una o due casse ma quando ti trovi la seconda sfida ti dai un automatico un mitraglione o un cecchino è vero è vero ma io faccio cassa per la rega comunque in ogni caso ma che cazzo che vuoi però c'hai ragione quindi non spreghiamo i soldi rialziamo qua l'arco acrobalenico ok fatto insieme ce l'hai tu prima che scherziamo l'ho messo bravissimo ormai come bravo attenzione riportiamo un baleno in un baleno dobbiamo farla anche il round dopo si si quindi masamune dobbiamo fare la boss fight e quella la facciamo con il ragnicello poi dobbiamo fare lo scudo elettrico e bisogna fare le spire e quindi poi bisogna fare la pianta perfetto ok mi sono arrivati due zombie di pronto ok perfetto perfetto ci siamo ci siamo per me scudo e banche startare si si starto ce l'ho io sicuro che non è nulla da fare l'ho ucciso io il mio ultimo vai ah non shotta più il bollo allora zombie sott'acqua si vabbè me ne mancano due li faccio subito mamma mia la mimetica nuova di pacca punch o noctown cazzo si chiama lei sul brecci quanto è figo si ma ancora non l'ho provata sai bravo grazie ero sarcastico vergogna grazie qualsiasi cosa dici grazie 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 un pezzo di comunque se tu ti dirigessi verso la pozza d'acqua blu ora tipo cioè ti spona un ragno si infatti se te ne manca veramente solo uno o due perché non lo fai che ne pensi aspetta un attimo che bordello qua che zio bordello devo fare le challenge sott'acqua io c'è bordello non c'è giusto ah doppi punti ma io devo stare immerso totalmente per fare la sfida che ne uccisi già un po' si con la bocca proprio abbastanza oppure loro più che altro devono stare immersi totalmente ah non posso prendere neanche i colpi qua del coso ma in realtà scusa perché non lo fai o alla power o dove c'è il pezzo ma no anche prima stanza dove c'è il pezzo no lì incasinatissimo eh beh se hai un pompa o qualcosa del genere in realtà no aspetta che dov'è un tanto prendere i colpi ecco porca troia ma io non ho preso la maschera anti gas se non credo io ah ho preso un altro all'istante eh ora se riesci ad andare in quelle zone ti fai scialli non sto nemmeno a calcolare le mie probabilità di sopravvivenza maschera anti gas sta su A si vado a prenderlo vado a prenderlo avrei manco talmente pochi anzi andrei a prendere un po' di perso questi cosi eh c'è stato il momento con doppi punti che mi ho fruttato un po' qui c'è una simpatica staviglia guarda io mi prendo due zombie e me li ucciso sott'acqua faccio vediamo se li sponimo qui attenzione li sponimo qua eh oh mio dio ma ce n'erano un bel po' da una strada che ho appena fatto c'erano 5-6 perfetto io devo andare innaffiare prima che ci siano problemi vari questo mi chiedeva tutto il mio sott'acqua eravamo me lo considera vero se non sarebbe vai vai in teoria anche questo ok vai finito ah fatta quindi manca solo il ragno vai nella zona di bozza blu sto andando adesso così almeno possiamo fare l'altro step per il pezzo è innaffiato vero sto andando sto andando ha detto ora non ti sentivo sorry complimenti no 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 comunque e c'è anche un bozzolo da aprire qua lo apro lo apro lo apro oh cazzo fai veloce fai veloce innaffiato innaffiato corri corri johnny corri johnny corri johnny qua ci schiatti johnny accelera tira le due bracciate un po' più pesanti ragno ragno devi andare dal ragno eh ma perché sono andato di qua aiuto 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 ma perché sono andato di qua ma perché ogni ragno dura un'eternità fare il giro del mondo quando la masamune tornerà costruire la masamune è uno degli obiettivi è uno degli obiettivi masamune ok perché questa voce così va bene ok allora io ho innaffiato l'innaffiabile round dopo no mi sa che non ci sono ancora ragno round dopo no al 12 forse ah si 7 ogni 5 se la matematica non è un'opinione death pawn death pawn death pawn eccolo eccolo picchia 2 2 attenzione credibile ok buono buono c'è una bolla qua sulla sinistra ce n'era anche una qua ma nessuno di due c'è andato vaffanculo c'è andata non c'è andata